giornata moto uscita con mio cugino roberto e il mio amico michele destinazione lago di occhitto siamo a pago veano siamo a molinara bellissima piazza allora ci siamo fermati qui a molinara per una pausa caffè l'obiettivo lago di occhitto che fa da confine tra puglia e molise siamo a poiano di valportore ora si va per basilice prendiamo una strada secondaria per basilice ecco basilice e in lontananza san bartolomeo e siamo a basilice e siamo a san bartolomeo siamo arrivati a volturara a pappola e ora ci dirigiamo verso caselvecchio di puglia saranno più o meno una ventina di chilometri e siamo a castelvecchio di puglia e e ora ci dirigiamo al lago di occhitto grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.